Grazie a tutti. Una delle tante frasi, poi ce ne sono anche altre di più belle, ma che veramente potevano rimanere scolpite nei nostri cuori, soprattutto per il dovere della testimonianza. Perché il coraggio da solo non basta per affrontare la morte così non è una cosa da fare. Ci vuole l'amore, i genitori non ci sarebbero riusciti. E veramente chiudiamo questo incontro con la speranza che verità e giustizia trionteranno sempre. Grazie a tutti. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lupo colorato. Si sa come si nasce ma non come si muore e non sei un ideale, ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando cento passi lungo la tua strada allora. Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento passi.